La Puglia non aumenta le tasse, anzi conferma anche per il 2017 le agevolazioni in favore delle famiglie numerose con figli disabili. Lo ha detto l'assessore regionale del bilancio piemontese a margine della discussione generale sul bilancio di previsione 2017 cominciata ieri mattina davanti alla prima commissione programmazione bilancio finanze e tributi del consiglio regionale. È un bilancio che moltiplica risorse e servizi che servono a rendere più uguali i pugliesi, ha osservato l'assessore, in riferimento non solo a detrazione dall'addizionale regionale IRPEF in favore delle famiglie numerose o in cui siano presenti figli diversamente abili, ma anche di altri stanziamenti rilevanti nel quadro di un bilancio che mobilita complessivamente circa 1 miliardo e 100 mila euro. Tra questi spicca il raddoppio delle risorse per le persone affette d'autismo che arrivano a 1 milione 650 mila euro, l'incremento del 40% dei fondi per l'integrazione scolastica e dei disabili portato a 10 milioni di euro. Importanti anche gli stanziamenti di 12 milioni e mezzo di euro per aeroporti di Puglia per la promozione del territorio pugliese e 2 milioni e mezzo per l'impiantistica sportiva, a rafforzare il profilo di una regione che investe e valorizza la qualità complessiva dei suoi servizi. Manfredonia cronaca furti in esercizi commerciali indito ad a banda di Foggiani. Una banda di quattro Foggiani, un uomo e tre donne già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dalla polizia di Manfredonia. Il gruppo è accusato di aver compiuto alcuni furti in danno di alcuni esercizi commerciali nel centro sipontino. Ad allertare gli agenti l'atteggiamento sospettoso del conducente dell'auto, l'uomo era stato riconosciuto dalla polizia come l'autore di alcuni furti presso alcuni esercizi commerciali del luogo. Nel corso della perquisizione e all'interno della vettura sono state rinvenute delle borse da donna, contenenti vari accessori tra cui anche marche importanti e poi pochette, portafogli e diverse bottiglie di superalcolici. I prodotti rinvenuti da successivi accertamenti espletati sono risultati essere compendio di un furto ai danni di esercizi commerciali. Per compiere i furti e sfuggire dal controllo dei mezzi di antitacchinaggio venivano utilizzate borse provviste di schermature realizzate in materia artigianale, tre delle quali sono state sequestrate. Tutti i componenti della banda sono stati indagati in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre tutta la rifurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari. L'intensificazione dei controlli di prevenzione verrà garantita anche durante le festività natalizie, assicurano dal commissariato di Manfredonia. Il comune di Manfredonia cerca collaboratori per la manutenzione del verde pubblico. In esecuzione della delibera della giunta comunale del 22 novembre scorso e della determinazione dirigenziale del 7-12 scorso, il comune di Manfredonia intende procedere alla ricerca di collaboratori per la manutenzione degli aree verdi pubbliche, riportate in un elenco ben preciso. Possono partecipare soggetti privati, associazioni, enti, condomini e soggetti privi di finalità di lucro, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione. La gestione a cura degli aree a verde può concedere una delle forme di manutenzione dell'area dei contenuti minimi, dove dovranno prevedere conservazione di tappeti erbosi e degli arbusti, pulizia dell'area e cura del mantenimento degli impianti previsti. Per maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, l'incegner Ferrara del comune di Manfredonia. La programmazione dei collegamenti su gomma dovrà essere effettuata dalle province in vista delle nuove gare d'appalto che si svolgeranno a gennaio 2018. Per la razionalizzazione delle ferrovie, invece, la Regione Puglia si sta confrontando con i gestori, ma al tavolo aperto già da qualche mese si discute anche di un progetto più ambizioso, quello di arrivare al gestore unico sia per la rete che per il servizio. L'assessore regionale Gianni Giannini ieri ha fatto il punto con i sindacati sul tema del trasporto pubblico locale. Al centro il nodo delle risorse con la necessità della Regione di far quadrare i conti per non dover intervenire sul prezzo dei biglietti. Non ci saranno tagli di servizi, ha garantito Giannini, ma tutto ciò che non è sostenibile dovrà essere riprogrammato. E dunque per la Foggia Manfredonia, 12 passeggeri appena per 160 posti, per la Gioia Gravina e per alcune corse della Foggia Termoli, recentemente al centro di polemiche per le decisioni di Trenitalia di eliminare il treno e si truirlo con il bus, il destino è segnato, ma lo stesso ragionamento andrà fatto per tutte le linee poco utilizzate, passeranno dal ferro alla gomma. Ecco perché, ha spiegato l'assessore, sarà particolarmente importante la fase della programmazione delle linee. Il territorio del Consorzio di Bonifica della Capitanata si estende per oltre 441 mila ettari dal Torrente Saccione all'Ofanto, quattro principali invasi, Occhito sul Fortore, Capaccio sul Celone, San Pietro sullo Sento, Lamarana a Capacciotti. A questi grandi invasi vanno aggiunti 18 bacini idrografici. Giuseppe Di Filippo, presidente Consorzio di Bonifica della Capitanata. Quanto è importante l'acqua per la Capitanata? Tanto è importante il Consorzio di Bonifica. Gli invasi, che sono quattro della provincia di Foggia gestiti dalla Capitanata, garantiscono una rete idrica di 150 mila ettari di irrigazione, acquedotti rurali e ovviamente la priorità assoluta all'acqua potabile. Il direttore del Consorzio, Franco Santoro, ci fa invece il punto sulla disponibilità idrica negli invasi gestiti in provincia di Foggia. I quattro invasi gestiti dal Consorzio hanno una situazione abbastanza positiva. Abbiamo l'invaso di Occhito, che è il nostro serbatoio principale, che ad oggi ha una quantità di acqua di 160 milioni di metri cubi. Quindi abbiamo, rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo, quasi 12 milioni in più di acqua. Abbiamo un po' in sofferenza l'attuale diga che è alle mie spalle, che è la diga Capaccio, che ha un volume attuale ad oggi di 6 milioni di metri cubi sui 16 milioni di capacità utile, però consideriamo che siamo a dicembre e il periodo delle piogge dovrebbe, il periodo migliore è nel periodo di inizio di primavera. Poi abbiamo la diga Capacciotti, che ha superato i 30 milioni in questi giorni, quindi una situazione molto incoraggiante per quanto riguarda quel territorio. E la diga di Osento, che ha un volume che supera i 10 milioni di metri cubi. Quindi tutto lascia presagire per il 2017 una stagione rigua normale. Chiaramente noi ci auguriamo che arrivino le piogge per avere una maggiore tranquillità per quanto riguarda la distribuzione in rigua 2019. La città di Foggia ha ospitato il secondo seminario nazionale Ambiente, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, una a due giorni intensa alla quale hanno preso parte professionisti provenienti da tutta Italia, con l'obiettivo di fare il punto della situazione sul lavoro e le sue garanzie in una società in cerca di sostenibilità e di sicurezza. A presiedere i lavori è stato il professor Tommaso Germano dell'Università degli Studi di Bari. In materia di sicurezza, salute e ambiente ci sono novità in continuazione. C'è l'Unione Europea, la quale insiste per la formazione individuale, c'è l'Unione Europea che dice che dobbiamo adattarci. Purtroppo nel quesito se la formazione dei lavoratori è a carico dello Stato o delle regioni, abbiamo lasciato colpevolmente trascorrere 13 anni, come ho detto nella mia relazione, e evidentemente la civiltà e la cultura è aumentata e le leggi non si erano adeguate. Un confronto aperto a tutti, in particolar modo agli ordini professionali. Gerardo Tibollo, presidente Ordine Ingegneri, provincia di Foggia. Questo convegno vuole testimoniare la sensibilità e l'importanza che gli ingegneri danno alla cultura della sicurezza, perché rappresenta uno dei momenti più positivi di attenzione verso la salute di chi opera a diverso titolo, in candieri, luoghi di lavoro e tutto quello. Manfredini a calcio nel caos, ieri prima richiamato Vadacca e poi rimandato a casa. Regna il caos intorno al Manfredini a calcio e quello che è successo negli ultimi 48 ore a dell'incredibile Massimiliano Vadacca, martedì, è stato richiamato alla guida dei Sipontini. Nella giornata di mercoledì ha raggiunto la sede sociale, dove ha avuto un incontro con il DS di Toro e il presidente Stanga per parlare del futuro imminente. Nella serata di mercoledì però il dietrofondo della dirigenza, che come confermato dallo stesso Vadacca, pare sia legato ad un'opposizione di due o tre giocatori già decisivi ai tempi del suo esonero. Ha parlato anche della questione spogliatoio, poi con alcuni tifosi, sottolineando come alcuni giocatori vengono assecondati in ogni lamentela, destabilizzando lo spogliatoio ed altri invece decidono su questioni come quelle degli allenatori. Tra l'altro gli stessi non erano presenti agli allenamenti anche fin quando il trainer Salentino non è stato esanerato. Parole forti dette da Massimiliano Vadacca, un uomo che senza pensarci due volte ha percorso 400 km per riprendersi la squadra che ha amato e ama ancora, a differenza di chi nello spogliatoio ha dimostrato ben altro. Il futuro è sempre più nebuloso, considerando che domenica in panchina ci sarà un allenatore sfiduciato ma tenuto a galla da pochi elementi della rosa.